Un patto a sostegno della domiciliarità è quanto chiedono le segreterie regionali dei sindacati confederali dei pensionati di CGL, CISL e UIL che da tempo sono impegnate nel denunciare le criticità del nostro sistema sanitario pubblico nazionale e regionale impoverito in questi anni di aziendalismo esasperato, di risorse e di addetti. La drammatica emergenza sanitaria del Covid-19, hanno spiegato i segretari generali regionali nel corso della conferenza stampa Bari ha ancora più messo in evidenza l'inadeguatezza del sistema sanitario pubblico pugliese con effetti devastanti soprattutto nelle residenze per anziani, nelle case di riposo ed RSA, nonostante le insistenti denunce e le richieste di interventi urgenti da parte delle organizzazioni sindacali e delle categorie dei pensionati. Nella ripartenza SPI, FNP e UIL per regionali rivendicano per i propri anziani un sistema socio-sanitario integrato di cura e di assistenza orientato sulla centralità della persona e sulla sua unicità. Certamente, questo attivo unitario che abbiamo voluto è un percorso, riviene da un percorso che abbiamo fatto su una piattaforma nuova che abbiamo pure rivisto, partendo dall'esperienza che Covid-19 amaramente ci ha dato. Sappiamo quello che è successo nelle case di riposo, vorremmo, anzi chiediamo che i nostri anziani invecchino come loro vogliono invecchiare e per nostra tradizione vogliono invecchiare nelle loro case, tra i loro cari, invece purtroppo abbiamo riscontrato che questa vicenda ci ha dimostrato che purtroppo questo non è stato e al nord soprattutto abbiamo avuto un'esperienza molto amara. Cosa auspichiamo? Che la regione, partendo intanto dalla legge sull'invecchiamento attivo, la legge numero 16, ma dalla piattaforma che noi abbiamo voluto unitariamente approvato, si confronti con noi perché in questo momento tra l'altro si sentono tutti in campagna elettorale, presidenti, candidati, consiglieri eccetera e vorremmo che dimostrassero un minimo di sensibilità per ascoltarci e fare con noi insieme un percorso perché i nostri anziani invecchino dove vogliono e come vogliono. Ma l'RSA ha dimostrato tutta la criticità che poteva esserci, diciamo che siamo stati forse tutti un po' distratti sulla gestione in passato dell'RSA. Mi auguro che dopo le vicende avute, vissute, sia per quanto riguarda i dipendenti dell'RSA sia per gli ospiti ci sia una rivisitazione che la regione nel fare gli accreditamenti ascolti anche noi perché i criteri per l'accreditamento sono una cosa seria e non possono essere dati così in base alle amicizie politiche o a chi risponde di volta in volta ai personaggi del momento.